Forse che andò bene, dopodiché Renzi promise in quelle primarie di andare a votare subito, che avrebbe fatto finire eletta e sappiamo come sono andate le cose, lo stai sereno eccetera. Io potevo stare in quel governo, avrei avuto molto spazio, ho semplicemente rinunciato perché avevo fatto le primarie dicendo che non volevo più le larghe intese. Tutta questa è storia, quindi non ho nessun risentimento, io sto benissimo così. Sono felicissimo di poterne parlare in televisione nonostante sia difficile, quando si esce sia meno visibilità, ti invitano di meno, anche Sallusti che di solito ti provoca sempre, è più gentile ma più disinteressato. È una scelta di sincerità che è stata fatta da me e da poche altre persone, tra cui Alfredo e altri. Sorride Sallusti, che secondo me ce ne saranno altre. Altre decisioni. Scusa onorevole, una cosa Renzi la dice giusta, cioè la politica non è solo avere delle buone idee o avere dei programmi, e avere la possibilità di applicarli, cioè avere la possibilità di vincere le elezioni. Ora, è un dato storico che la tua ricetta non aveva, non ha, ti auguro che la avrà in futuro, nessuna possibilità di vincere, quindi resta una testimonianza la tua. Due cose però. Legittimo. Renzi ha avuto, inserendosi con voti che non aveva preso lui, ha avuto la possibilità di realizzare le sue idee vincenti e siamo qui a parlare come se fosse un mezzo funerale del centrosinistra stasera. La seconda cosa è che ovviamente io guardo al futuro, però per esempio io quattro anni fa dicevo, state attenti che i 5 Stelle ci rubano un sacco di elettori, anche all'area di centrodestra, ma soprattutto all'area di centrosinistra, su alcune tematiche. Non si è voluta vedere quella cosa, si è trascurata, e ancora oggi ci stupiamo che loro siano in testa. E lei vorrebbe fare un'alleanza con i fuoriusciti dai 5 Stelle? Io vorrei salvaguardare quelle persone con cui ho collaborato in Parlamento in questi anni, con persone come Pizzarotti, con cui dialogo da quando è stato eletto, che sarebbe il sindaco di Parma che è stato espulso dal movimento, e cercare con loro di recuperare quello che c'è di buono in quella storia, che è una storia breve, ma fatta di buona volontà. Su alcune questioni, soprattutto amministrative, si può lavorare insieme a loro. Lo faremo a Genova, lo faremo a Spezia, lo faremo in altre città, a Parma. L'idea è quella di provare a cambiare lo schema politico. Se lo schema politico è quello di cui parla Sallusti, si farà una cozzaglia a destra, una cozzaglia a sinistra, e poi si governerà insieme. Io vorrei provare a vedere se c'è qualcosa di diverso.